amici di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la palla noto vista da vicino Olympic Dreams ritroviamo insieme a noi la giornalista di Eurosport Andrea Colnago ciao Andrea bentornata ciao Andrea un piacere Andrea la Serbia batte 13 a 10 la Grecia e vince il titolo olimpico che partita abbiamo visto una bellissima partita a mio avviso è stata una partita combattuta molto fisica una partita decisa molto spesso dalle difese oltre che da degli attacchi sorprendenti una partita forse alla vigilia non ci aspettavamo una Grecia così però insomma credo che sia stata un'ennesima dimostrazione che come poi in tutti gli sport forse di squadra che abbiamo visto che effettivamente no il lavoro paga la crescita anche dei giovani fanno la differenza come in una squadra come la Grecia per esempio e insomma impensierire quelli che sono sempre stati padroni di casa di questa specialità non è così complicato come come poi sembrano quali sono le chiavi su cui i serbi hanno costruito questo secondo trionfo consecutivo io mi permetto di suggerirtene una una solidità mentale spaventosa allora questo è la base del successo serbo ma è la base dei di qualsiasi successo nel senso che comunque la serbia ha dimostrato di essere una squadra che è soprattutto eh testa che è soprattutto eh capacità di eh avere un obiettivo e nonostante la difficoltà portarlo avanti perché è stata in difficoltà in questa partita e più volte però non ha mai perso la concentrazione non ha mai perso la bussola è una squadra molto solida in mentalmente è molto solida in sotto tutti i fondamentali eh dal punto di vista proprio tecnico ovviamente vabbè l'esperienza l'esperienza paga tantissimo è una squadra super vincente perciò insomma queste finali le sa giocare le sa giocare molto bene eh e poi ci sono i fondamentali no penso eh anche alla alla controfuga penso al fatto che eh insomma i tiri da dai sei metri sono stati sicuramente anche quelli molto incisivi è riuscita in alcune situazioni anche a giocare al centro in maniera eccellente in maniera sontuosa con passaggi incredibili al centro con delle finte non facili quindi in realtà credo che dal punto di vista tecnico e tattico non le manchi nulla eh e non le mancava nulla neanche dal punto di vista mentale credo che siano state e sia stato tutto un po' la chiave sia stata eh il costruire una squadra vincente capace di vintercere nonostante le difficoltà. Il secondo oro olimpico di fila quarto podio consecutivo dopo i bronzi di eh Pechino e di Londra eh chiude nel migliore dei modi lo straordinario ciclo vincente della eh banda di dei Savic formazione che ha praticamente vinto tutto quello che c'era da vincere. Esatto quindi in realtà è quello è proprio questo no? Il fatto che eh sai vincere no? E quindi anche quando le cose si mettono un po' male o quando comunque mh senti la pressione addosso sei comunque in grado di saper vincere e credo che eh abbia costruito anche proprio Savic una squadra eh vincente proprio dal punto di vista mentale prima di tutto che non tecnicamente e sulla tecnica non si può discutere. Io eh non posso non chiederti un pensiero su un fuoriclasse su una leggenda di questo sport eh il portabandiera della Serbia nella cerimonia inaugurale un campione che risponde al nome di Filip Filipovic che probabilmente con oggi chiude la sua carriera con la calottina della nazionale. Quale commento conclusivo possiamo fare anche se so che ci vorrebbe forse una trasmissione intera dedicata a lui? Sì e soprattutto c'è penso che non ci siano commenti da fare no? Quando ci sono grandi campioni in acqua in campo ma lo abbiamo visto in quest'Olimpiade no? Eh ci sono stati diversi a D importanti eh non è difficile poter descrivere un un campione è difficile poter descrivere una carriera e riassumerla in poche parole è stato un assoluto protagonista è un un eccellente giocatore una persona incredibile un eh che forse anche no con gli anni è stato in grado di probabilmente trasmettere anche a chi veniva dopo eh la stessa la stessa eh grinta la stessa eh come si dice passione no? Che che va messa in un eh in un nel gioco va messa con la nazionale l'attaccamento no? Ai colori e la dedizione anche a un a uno sport al proprio sport e cercano di farlo nel miglior modo possibile quindi credo che forse la sia la conclusione perfetta di un eh di di una carriera con la nazionale una carriera incredibile insomma questa nazionale ha davvero vinto da vinto ha davvero vinto tutto e credo che insomma coronarle in questo modo sia anche l'ennesima dimostrazione di quanto lui ha dato a questo sport e quanto ha dato alla sua nazionale. Veniamo ai secondi classificati che però a mio avviso sono stati protagonisti di uno straordinario eh torneo. Ti chiedo per la Grecia eh si tratta di un argento vinto oppure per la gestione della finale gli eleni si possono avere da recriminare? Allora io credo che adesso è evidente no? Come tutte le finali perse un po' ti ti brucia ma è evidente che sia così ed è assolutamente normale. Io credo però che questa squadra sia cresciuta tantissimo nel corso di questo torneo olimpico ma in generale in questo ciclo eh che abbia messo insieme un gruppo di ehm di veterani con giovani di grandissimo eh talento in grado di eh poter giocare una finale olimpica e anche di mettere in difficoltà dei campioni come quelli come come nazionale serba. Quindi credo che in realtà non abbia da recriminare molto. Ha pagato l'inesperienza un pochino eh ha pagato evidentemente no un leggero divario che ancora c'è con la nazionale serba. Fa male, brucia evidente però credo che insomma abbia fatto già un risultato storico, abbia fatto moltissimo e in prospettiva credo che sia una nazionale che possa crescere ancora enormemente. Ci sono ragazzi del novantasette novantotto che insomma hanno segnato dei gol in una finale olimpica mettendo in difficoltà la Serbia. Quindi credo che da qui si possa soltanto migliorare. E in tema di grandi giocatori eh anche nel match per il terzo posto possiamo dire che è stata l'ultima recita di qualche altro grande fenomeno. Sicuramente eh abbandonerà la calottina della nazionale Victor Nagy eh assoluto protagonista del nove a cinque con cui l'Ungheria eh supera la Spagna e potrebbe essere anche l'ultima eh partita eh con la formazione eh ungherese di Varga. Ti chiedo eh la degna conclusione per l'Ungheria di questo torneo e il ritorno sul podio olimpico. Beh io credo assolutamente assolutamente sì la conclusione di una di un ciclo di una di due carriere importanti e una nazionale che comunque negli anni è sempre stata eh magari con alti e bassi ma soprattutto nell'ultimo periodo no è in grado di far far vedere che la tradizione ungherese comunque la capacità la tecnica ungherese sia di assoluta eh di assoluta importanza e che sia una delle nazionali più più forti. Quindi credo che effettivamente no possa essere la conclusione eh è stata anche quella comunque una partita tra due squadre eh che in questo torneo hanno fatto vedere di essere davvero importanti e di aver comunque accumulato una discreta esperienza e una discreta capacità di poter vincere partite importanti perciò eh credo che effettivamente forse siano state quasi le quattro squadre in una competizione davvero stranissima perché questo questa palla noto non è mai stata così strana e così combattuta forse eh ad un torneo olimpico credo che sia effettivamente l'Ungheria torna sul podio e insomma mette un sigillo in una di una tradizione che anche in campo femminile comunque sta crescendo moltissimo insomma sta ritornando ad essere importante. Assolutamente chiudiamo purtroppo con le dolenti note il settebello batte i rigori il Montenegro e chiude il torneo al settimo posto ti chiedo eh Tokyo 2020 è un incidente di percorso oppure c'è bisogno di una riflessione più approfondita sul sistema? Eh bella domanda io credo che effettivamente abbia sicuramente dell'uso le aspettative io ho visto questi ragazzi un pochettino scarichi non so se sono stati scarichi mentalmente non so se erano scarichi eh fisicamente quindi di conseguenza abbiano fatto fatica a gestire delle partite soprattutto da un punto di vista fisico ehm trovo che probabilmente per eh possa essere comunque la conclusione di un ciclo forse per qualcuno eh c'è da lavorare sotto no c'è da lavorare da mettere di nuovo le basi perché c'è qualcuno che sicuramente in questa nazionale è in grado di starci ci potrà stare ancora per diverso tempo eh poi però bisogna insomma cercare di mettere un punto andare avanti eh valutare effettivamente che cosa è stato cosa c'è stato di negativo eh sicuramente qualcosa c'è stato qualcosa non ha funzionato perché da campioni del mondo in carica arrivare a fare una un'olimpiade così sicuramente eh insomma delude eh però ecco valutare se il il problema sia stato un arrivare a questo all'impiade eh magari fisicamente troppo appesantiti da un una molle di lavoro che c'è stata ed è stata importantissima quest'estate se c'è stato qualcosa c'è stato qualcosa invece che non ha funzionato di più e quindi quello chiaramente noi non lo possiamo sapere lo sanno soltanto loro e quindi poi da quel punto lavorare per ritrovare l'armonia che invece poi c'è sempre c'è sempre stata in una squadra che insomma la capacità di vincere ce l'ha e non l'ha mai non l'ha mai nascosto. Chiudiamo con un'ultima battuta eh sicuramente anche per l'Italia ci sarà eh qualche addio di eh qualche elemento più esperto. Da quali certezze riparte il percorso considerando che l'anno prossimo sarà poi decisamente particolare perché ci saranno sia gli europei che i mondiali? Ma io credo che ci siano dei giocatori eh sui quali ovviamente va 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 puntato e va costruito il nuovo il nuovo ciclo no? Sono i giocatori poi che alla fine sono ehm sono i più giovani ma sono quelli che poi in realtà alla fine potrebbero proseguire no? Penso ai ai vari Renzuto, ai vari insomma Dolce, tutti tutti quei giocatori che hanno sono stati protagonisti qualche anno negli ultimi anni della nazionale ma che comunque hanno ancora una carriera davanti eh importante. Eh le certezze sono quelle di ritrovare eh la eh come si dice anche l'equilibrio no? L'armonia di un gioco che c'è di fatto sempre stata perché eh se pensiamo ai mondiali ehm del 2019 nel senso non è passato non è passato un'eternità quindi in realtà eh non è una squadra molto diversa da quella che 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 era allora no? Perciò eh effettivamente forse è più la la stabilità, la tranquillità, la sicurezza nel nel gioco anche quella mentale no? Eh dalla quale poi bisogna ripartire per costruire una squadra che ha delle basi solide perché non è un ciclo che si chiude completamente ci sono moltissimi giocatori in grado e capaci e con l'età giusta per poter tra tre anni riprovarci però eh è chiaro che a quel punto va eh ritrovata ritrovata quella serenità di gioco che comunque eh c'era e c'è sempre stata fino a insomma ad ora. Va bene siamo giunti così al termine della nostra chiacchierata ringrazio Andrea Colnago per essere stata insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Andrea grazie. Ciao grazie alla prossima.